Dopo lo svolgimento delle primarie adesso Fratelli d'Italia Decireale sta lavorando per una lista. Sì, il risultato che è uscito dall'urna delle primarie interne di Fratelli d'Italia è stato quello di indicare quindi uno dei candidati sindaco che erano stati appunto designati e messi all'attenzione di chi veniva a votare è appunto Michele Di Re. Quindi Fratelli d'Italia in omaggio, in osseguio all'esito dell'urna appoggerà il candidato sindaco Michele Di Re. Per tali ragioni Fratelli d'Italia sta lavorando per la composizione di una lista, naturalmente siamo al lavoro considerando anche che Fratelli d'Italia è una formazione tuttavia molto giovane presente sul territorio, in particolare sul territorio delle ACI da poco tempo, stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per poter garantire all'elettorato accese un punto di riferimento per chi si rivede nelle nostre posizioni. L'alternativa sarebbe quella di individuare le personalità cittadine che possono rappresentare i valori, gli ideali di Fratelli d'Italia e che naturalmente si possono rivedere nelle nostre posizioni. Nulla togliendo anche al fatto che Fratelli d'Italia potrebbe individuare al suo interno anche delle figure che possono andare a confluire in una delle liste di civiche a sostegno del candidato sindaco Michele Di Re.